Nel primo tempo, come sottolinea giustamente, è una grandissima atleta perché è riuscita a fare quello che nessuno fino ad oggi aveva fatto, ovvero vincere il campionato italiano Juniors a soli 13 anni. Signore e signori, un grande applauso per Nicole Cristini! Adesso non faccio! Adesso non faccio! Adesso non faccio! Adesso non faccio! Convisa! Vieni, vuoi da me? Vieni, vuoi da me? Vieni, vuoi da me? Vieni, vuoi da me? Te lo dico sotto luce, amo te! Come non mi fai fatto in fondo con nessuna estra, un secondo te? Sei di sogno e lui trova, cerca di lui, non mi sono lui, amo te! Quella che, chi è mai, non se la prende se vuoi, non mi ascolto! Vuoi, 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 sei un piccolo fiore per me, e il odore che hai, mi ricorda qualcosa? Vieni, vuoi, vuoi, sei un piccolo fiore per me, non mi ascolto! E, quando sento il dubbio essere che si muove lento, oh mio! Vieni, vuoi, sei un piccolo fiore per me, e il odore che hai, mi ricorda qualcosa? Che vieni! Che vieni, vuoi, sei un piccolo fiore per me, e il odore che hai, lo capo che hai, non mi ascolta! Signore e signori, un grande applauso per Nicola Cristini!